Un'altra aggressione è avvenuta questa sera durante la trasmissione dalla vostra parte. La vittima è la deputata di Forza Italia, Daniela Santanchè, fatta oggetto del lancio di alcune pietre indiretta, davanti alla stazione Termini di Roma. Una persona è stata subito fermata da alcuni agenti della polizia presenti in zona. Hanno iniziato a prendere sassi e a tirarli, per fortuna c'era la polizia, dichiara la Santanchè. La Santanchè è scioccata da quanto accaduto, continua a ripetere che si è trattato di una cosa pazzesca, visibilmente impaurita mostra il San Pietrino che le è stato tirato. Quello di oggi è solo uno dei tanti episodi di violenza ai danni di giornalisti Mediaset. Ricordiamo Alessio Fusco e l'inviata allenare da elli aggrediti nei giorni precedenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!